Spoglia Galleri il cantante e la modella sono in vacanza alle Hawaii. Tra selfie di coppia, passeggiate e tuffi non potrebbero essere più sereni. Le foto più belle pubblicate sui social 12 gennaio 2021 di Antonella Rossi rifugiarsi in un luogo lontano da tutti, nel bel mezzo di una pandemia mondiale, è il sogno di molti, se poi la meta in questione, come quella scelta da Justin Bieber e Haley Baldwin, ancora meglio. Il cantante e la modella hanno interrotto il quotidiano Trantran rifugiandosi a Honolulu, nelle Hawaii, dove stanno trascorrendo momenti di assoluto relax, tra selfie di coppia, snorkeling e passeggiate solo per due nella natura. Non mancano nemmeno le dediche romantiche, la vita con te è migliore, ha scritto Bieber accompagnando una foto della moglie, e ancora, ti amo dolcezza. Le risposte di lei sono piogge di cuori, testimonianza di un momento pieno di armonia. La coppia, in realtà, non è proprio da sola, a Honolulu vive Joe Termini, grande amico di Justin, insieme alla moglie Kelly Amoniz e al figlio neonato, cambierà il mondo assicura il cantante pubblicando una foto che lo ritrae con il piccolo tra le braccia? È il tuo turno, commenta un follower, ma per vedere un piccolo Bieber bisognerà aspettare ancora un po'. Https2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.amerei avere una piccola tribù, ma avrò quanti figli vorrà averne e lei, ha rivelato di recente nel corso un intervento all'Hellen DeGeneres Show, è il suo corpo, e deve poterne fare quello che vuole. Credo voglia avere pochi figli. Sposati dal 2019, 26 anni lui, 24 lei, hanno tutto il tempo possibile per allargare la famiglia se lo vorranno. Al momento, la vita a due è meravigliosa, e piena di romanticismo. La vita a due è meravigliosa, e piena di romanticismo. La vita a due è meravigliosa, e piena di romanticismo. La vita a due è meravigliosa, e piena di romanticismo.